prendiamoci i complimenti, avrei preferito dire che abbiamo giocato male e ne avessimo vinto però è chiaro che la settimana è stata una settimana intensa, i ragazzi sono d'accordo con te il primo quarto è stato un primo quarto difensivamente troppo morbido per quello che è il mio credo cestistico per quello che in realtà tutta la settimana mi hanno fatto vedere i ragazzi tant'è che poi hanno decisamente cambiato e invertito la rotta da questo punto di vista è chiaro che il rammarico è di perdere una partita per episodi, quello finale sì però ce ne sono stati altri dove non parlo di arbitri, parlo anche della nostra gestione e questo mi dispiace esclusivamente perché è chiaro che è la non conoscenza reciproca dove in certe situazioni arriveremo a fare cose più semplici